buongiorno buongiorno al dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una signora che mi parla dottore come posso fare per smettere di fumare fumo due pacchetti di sigarette non ce la faccio più sono anche in cassa integrazione non sto lavorando ma è più forte di me bene signora le sfondo una porta aperta le ho risposto perché anch'io un tempo fumavo tre pacchetti di sigarette uscivo da casa convintissimo di non comprare più stecchie di sigarette e poi sistematicamente la compravo ero veramente un tossico dipendente da sigaretta oggi sono libero libero li grazie al potere della mia mente all'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola io ho smesso con un libro se rifletto è facile smettere di fumare se sai come farlo di allen car che ti invito a leggere una volta due tre quattro cinque dieci volte io già dalla prima all'epoca non ero neanche uno un lettore però dopo anni ho scoperto che usavo una scrittura ipnotica ipnotica ok ero l'anticristo all'epoca della lettura perché mi ripetevo studiato più di vent'anni all'università bla 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 non ho voglia di leggere le frasi solite di chi è laureato sbagliando sbagliando perché non si finisce mai di leggere né di imparare bene oggi dal 2008 ad oggi ho sposato il metodo dcs l'ipnosi vera e professionale della dottoressa rina brunini del professor dottor michiel anche le gradi los angels baby hills l'ho fatta mia perché da più di 12 anni sono un professionista dell'ipnosi vera e professionale dcs un unico metodo di ipnosi dcs vera e professionale che può essere utilizzato anche su bambini adulti anziani anche senza la loro volontà sempre a fin di bene oppure che non possono essere aiutati come persone vecchetti bambini e anche gente in coma perché no che non partecipano alla alle parole del sottoscritto o di chi per me dei miei associati allora detto ciò tornando al discorso delle sigarette come funziona anche con un solo audio mp3 dcs dal titolo no fumo che scarichi direttamente dal sito della mia associazione iprolegio associati los angeles baby hills www.iprolegio associati.com tantissime persone hanno smesso di fumare anche con un solo audio mp3 dcs seguendo la lettera l'istruzione la prova di un nonno la prova di un pigro la prova di un idiota molto facili e buttando via orologio tempo e calendario è logico che l'iter naturale sessione online di ipnosi dcs col sottoscritto audio mp3 dcs poi ci sono quelli anche personalizzati audio dcs personalizzati che ti sconsiglia al momento perché sono molto cari e comunque non c'è tempo per realizzarli però ti garantisco che centinaia di persone anche rinunciando una colazione al giorno per 30 giorni hanno smesso di fumare si sono visti il portafoglio pieno di soldi e la salute una salute riacquistata non credere a me a nessuna parola non sto qui per vendere sto soltanto diffondendo il mio metodo dcs perché ho ceduto tutti i diritti sugli audio mp3 dcs all'associazione iprolegio associati los angeles baby hills per cui a te la scelta di fare le tue scelte però se segui le istruzioni molto facile la prova di non alla prova di un piccolo alla prova di un idiota anche con un solo audio mp3 dcs puoi uscire e veramente non fumare più ok io ho smesso con un libro però ho aiutato centinaia di persone nel mondo con l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola smettere con il mio metodo dcs fammi tutte le domande del caso e risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi dottore claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs del dottore claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel kid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo me nel 2008 centinaia e centinaia di persone nel mondo e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia alla prossima ciao